Quota relativa al posto del conferimento ovviamente perché è una parte di tutto il posto del servizio quindi diciamo che non si può perdere tempo, bisogna continuare a farci un pezzo e trovare la soluzione con la gioia e qualcuna si può trovare. Ogni comune è un po' lasciato da solo, nel senso che si parla a livello del provincio ma poi non si deve risolvere i suoi progetti. Comunque fuori regione a quanto pare di capire non internamente? Molto probabilmente sì, però chiaramente il territorio dovrà dare delle soluzioni provvisorie per quanto riguarda il trasbordo fuori regione, ci dovranno comunque essere soluzioni come minimo quindi bisogna trovare anche delle soluzioni sui territori. L'ipotesi su una riapertura di punticelli no? Attualmente si è parlato anche di quello, come sapete c'è Aimeri che ha fatto una proposta del genere ci sono problemi tecnici ancora prima di parlare di problemi politici da far risolvere per cui è una delle ipotesi ma è molto lontana. Va bene, grazie.